Ah, stai ordinando la spesa? No, sto effettuando il ritiro della spazzatura. Guarda, abbiamo risparmiato e ci pagano pure. È finalmente attivo in Italia il servizio di ritiro a domicilio degli scarti prodotti nella tua azienda. Se sei un'attività economica e vuoi risparmiare tempo, denaro e addirittura guadagnare dai rifiuti che produci, richiedi il servizio di Delivery di Borsino. Farlo è semplice. Basta collegarsi al sito www.borsinorifiuti.com e seguire un'intuitiva procedura di registrazione inserendo la tipologia di rifiuto da smaltire. Inserisci il prodotto nel carrello e sai già quanto spendi o quanto guadagni. Il nostro team di zona provvederà al servizio in brevissimo tempo, informandoti su giorno e ora esatta del ritiro. Borsino garantisce il principio di corresponsabilità nella gestione dei rifiuti, fornendo al momento dell'ordine tutte le autorizzazioni del processo di recupero e smaltimento, permettendo alle aziende di verificare la regolarità degli appositi formulari. Ama l'ambiente e proteggilo con Delivery di Borsino. Efficacia e trasparenza Borsino. Il ritiro dei rifiuti 100% italiano.